ciao ragazzi oggi giorno di video acquisti e di festeggiamenti qui in soffitta perché che cosa festeggiamo ad anzitutto volevo festeggiare e ringraziarvi per i 1500 iscritti c'è quasi quasi mille e quattrocento no quasi mille e cinque ma non stanno lì a vedere oh quanto dura questo scherzo sicuramente farò una live poi quando arriveremo a 1500 tonni facciamo una live tutti insieme e la seconda cosa da festeggiare è che finalmente siamo in zona gialla quindi la prima cosa che ho fatto è stato andare subito al mercatino a comprare qualcosa perché avevo proprio questa questa sete questa fame di mercatino e per festeggiare volevo fare un video in 4k voi ditemi adesso magicamente questo video diventerà 4k 1k 3k 4k ragazzi io credo che l'esperimento sia riuscito e in questo momento il video è in 4k datemi conferma con un messaggio se lo vedete anche voi in 4k perfetto ok possiamo continuare allora partiamo subito con i video acquisti volevo ricordarvi la filosofia dei mercativi qual è non è solo quella di risparmiare perché risparmiare sui fumetti leggere tanto risparmiare lo sapete fa sempre penso che come faccia piacere a me possa possa far piacere a chiunque però è quella soprattutto di poi scoprire trovare delle delle chicche e che altrimenti andando semplicemente ne dicono in fumetteria non si scoprono chicche perché fanno parte della della nostra storia del nostro posto a fumettistico perché non si finisce mai imparare come dico sempre bisogna essere curiosi allora e proprio parlando di chicche vi avevo parlato in un video del dell'almanacco di topolino vi ricordate video vintage e vi avevo promesso raccontando la storia che vi avrei parlato anche dell'almanacco paperino che da qualche parte dovrebbe esserci un numero sì ecco qua ce n'è uno dell'almanacco paperino del super almanacco paperino e del mega almanacco questo l'ho preso oggi al mercatino e contiene una storia storica allora il mega almanacco che cos'era è la pubblicazione che è venuta subito dopo l'almanacco di topolino e raccoglieva storie una pubblicazione questo è degli anni 90 credo e adesso vi dico anche 1985 no mi sbagliavo e dell 85 maggio 1985 che ha scritto quattro copertina maggio 1985 e pubblicavano storie straniere diciamo no non italiane e soprattutto le storie brasiliane quindi qua troviamo personaggi come giose carioca cose cose carioca e paper bat e quello soprattutto questa è una chicca perché qui c'è una storia storica ragazzi la prima apparizione di pennino voi vi chiederete chi è pennino pennino è il nipote di paveroga perché ragazzi paveroga nella versione brasiliana ha una fidanzata che al momento non mi ricordo come si chiama ha un'identità segreta cioè quella di paper bat e ha soprattutto un nipote peste che è pennino io credo in italia non mi ricordo di aver visto storie di italiane di pennino però magari magari mi sbaglio questa è il l'acquisto al mercatino uno degli acquisti procediamo sempre disney così mi è venuta voglia di disney ss topolino classico disney del del questo è degli anni 70 credo e giugno 1981 ragazzi c'ha 40 anni questo questo fumetto 40 anni tondi quasi a giugno fa 40 anni tondi e contiene storie degli anni 50 e 60 quindi davvero ragazzi una bella chicca bel tuffo nel del passato disneyano vi dico un po' quali sono le storie topolino la beffa di rio pepe topolino la ruota della fortuna 72 57 topolino il record ferroviario storia del 74 topolino il mistero del treno scomparso storia del 67 topolino la freccia rossa storia del 1956 topolino il campionissimo storia del 1957 topolino della rapina culmine storia del 1967 questo faccio vedere un po' le vignette sono bianco nero colore si usava all'epoca nel 1980 si usava questa questa forma del bianco nero colore bianco nero colore l'abbiamo visto tante volte soprattutto sugli album bianconi che vi mostro sempre procediamo a prima di procedere una piccola piccola parentesi ho pubblicato nei giorni scorsi un video fumetto su ripkirvi molti di voi mi hanno chiesto la storia di che storia si tratta e come procurarsela la maniera migliore più veloce non la migliore anzi la peggiore in realtà la maniera più veloce però più economica per procurarsela e trovare questo il numero 50 dei classici del fumetto di repubblica perché contiene proprio quella storia che è il caso faraday eccolo qui il caso faraday naturalmente su ripkirvi su questa storia magari su altre storie pubblicate su la rivista il mago mi prometto di fare prima o poi una bella recensione mercati mercativa molto molto vintage questo quest'album molto vintage uscito nel marzo 2021 si ragazzi si trova già eccola vi faccio vedere per i diffidenti è stato portato il 6 5 quindi qualche giorno fa 6 5 2021 sono portato al mercatino storia della barbato disegni di paolo martinello l'ho l'ho preso perché comunque trovarlo a 2 euro e 55 diciamo mi aggiorno anche su di land dog tex l'ultimo tex uscito in edicola questo lo trovate attualmente in edicola uscito l'altro ieri praticamente passiamo all'otto dei diabolic diabolic le prendo sempre un bel po tanto comunque tornerò al mercatino almeno 60 volte questo mese allora cominciamo da questo volume oscar mondadori e la titolo le rivali di eva quindi storie quelle che piacciono a me con i polpettoni i polpettoni amorosi vi dico le storie contenute quali sono penso se volete anche sapere quanto quanto speso ecco 2 euro e 50 il prezzo il prezzo pieno però siccome questo è stato portato due mesi fa e l'ho pagato a metà prezzo quindi fate un po il conto è costato un euro e 50 nemmeno per un bel bel volume vediamo se ci sono i titoli se li trovo se li trova al volo vi dico anche i titoli no la vedo la rivale di eva però c'è un sommario un sommario no si forse sta avanti non lo so vabbè c'è la rivale di eva e altre storie che al momento a un'altra donna e via dicendo insomma sono tutte storie sul sulla gelosia di eva canter sempre sulla gelosia di eva canter altri su quelli diabolic ho trovato un amore nuovo diabolic swiss 279 prezzo pagato qui qua un euro e 25 per sempre scontati diciamo che quello che vedete costato 5 6 euro senza tregua la sfida doppio gioco questi e il sono diabolic che ho trovato volume dedicato a guido buzzelli il numero 57 dei classici del fumetto di repubblica questo sicuramente già già ce l'ho già lo devo perché ve lo consiglio perché contiene la bellissima rivolta dei racchi purtroppo questi volumi non rendono giustizia le tavole faccio vedere solo i disegni della rivolta dei racchi di buzzelli sono meravigliosi ragazzi bellissimo guido buzzelli parliamo di un grande grandissimo del fumetto italiano anzi è da da fare un video anche su buzzelli e poi per i momenti piacevoli di relax tre volumi del grande black dei volumi del grande black ho preso una storia completa che è la banda del pipistrello parte 1 la banda del pipistrello parte 2 guardate che sono belle le copertine la banda del pipistrello parte 3 il finale quindi una storia c'è ogni volta che prendo il grande black li prendo sempre a tre alla volta per avere una storia completa e magari fare una bella recensione ragazzi il video finisce qui grazie grazie come sempre che per chi per chi mi segue non non si perde un video lasciatevi naturalmente dei commenti mi fanno tantissimo piacere e se non vi siete iscritti ancora al canale iscrivetevi ci saranno sempre più novità novità di vintagità ecco ci sarà sempre più vintagità in questo in questo canale io vi saluto ci vediamo alla prossima sempre qui sulla soffitta di mippo ciao ragazzi